Urne chiuse in Francia dove si è votato per le regionali, un test in vista delle presidenziali del prossimo anno, bassissima l'affluenza, le prime proiezioni in diretta da Parigi con la corrispondente Nicoletta Mancione. Buonasera Nicoletta. Sì, buonasera. Sorprese, conferme, un tasso di astensione record. Più del 60% dei francesi non è andata a votare per questo primo turno delle elezioni regionali. La Francia è tornata alle urne dopo mesi di pandemia. Intanto il partito del presidente Macron, la Repubblica Marche, ha subito una forte sconfitta su tutto il territorio. Nessun dei candidati passerà il ballottaggio. Grande affermazione in crescita il partito di Marine Le Pen, Rassemblement National, che però non sfonda come prevedevano i sondaggi. Grande affermazione invece della destra gollista. Nella sfida diretta con i candidati di Macron nel Eau de France, Xavier Bertrand della destra vince e va al ballottaggio con il partito di Marine Le Pen, mentre la Repubblica Marche arriva a quarta, solo l'8%, e mantiene le posizioni. Invece il partito socialista e le liste di sinistra, che riescono a far passare i loro candidati nelle regioni che già avevano conquistato nel 2015. Vedremo ora quali saranno i prossimi passi da parte di tutti i partiti. A voi. Torniamo in Italia.